allora ciao a tutte come state spero bene allora scusatemi per la mood per la misa e volevo dirvi semplicemente che se sono vestita così è perché ho troppo caldo non me ne voglio è un video di pulire la mia stanza nel frattempo vi faccio vedere come pulisco la mia stanza e non viene in mente altro da vabbè a parte i preamboli vi stavo dicendo che pulisco la mia stanza cioè non ha messo a posto ok e per adesso è tutto e vi lascio alla visione questo video peraltro video chiacchiericcio vero per la conclusione di un altro per cento di videoclip a parte o l'uno sopra l'altro non so cosa riuscirò a completare di questo video ok a dopo ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.